Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Questo è un video bonus, un video di news, un video dove vi racconto le novità che avvengono nel mondo dei videogiochi. In questo caso parliamo della patch 4.10 di X4 Foundations. Perché è una patch davvero molto interessante che fa venire voglia di ricominciare la partita per alcune cose. Perché sono stati migliorati? Inizio ad anticiparvi che la 4.10 a detta degli sviluppatori doveva essere comunque una patch più piccola ma spinti dalla voglia di accontentare i giocatori e dall'alto numero di feedback ricevuti ecco è una patch che ha richiesto loro più tempo e ha portato una quantità spropositata di modifiche più che altro miglioramenti più che modifiche. Allora non scenderò nel dettaglio perché è una cosa che comunque riguarda la maggior parte dei giocatori cioè la minor parte dei giocatori è quella dell'endgame hanno ritoccato ancora il terraforming rendendolo ancora più completo oltre che aver migliorato le fasi di mining e di costruzione della base e per le informazioni riguardo alle novità sulla funzionalità della base c'è un podcast che hanno pubblicato loro e sulla pagina Steam poi trovate il link hanno migliorato funzioni di commercio appunto di stazioni, costruzione e stazioni, gestione e stazioni e poi il terraforming hanno migliorato una serie di cose che vanno dalla sensibilità del mouse fino al feedback delle armi e soprattutto hanno migliorato il motore grafico che attualmente richiede meno memoria quindi se prima magari vi scattichiavo ogni tanto adesso non dovrebbe più farlo ma la cosa più interessante di cui voglio parlarvi brevemente è la nuova modalità di gioco cioè voi potete iniziare in questo caso vedete che io possiedo tutte le DLC la vendetta split e la culla dell'umanità ma non hanno concluso qui il loro lavoro perché stanno perfezionando ancora il gioco e soprattutto hanno aggiunto queste speciali funzioni il simulatore di progetto per stazioni praticamente permette di pianificare la costruzione delle stazioni quindi in pratica vi consente di accedere a tutti i progetti per le stazioni consente di creare qualsiasi piano di costruzione desiderato credo sia anche possibile salvarlo e quindi poi utilizzarlo nel proprio impero dopo di che abbiamo una partita creativa dove possiamo diciamo avere tutto ma non è molto interessante la più interessante è questa la personalizzata con budget perché vi faccio vedere che qua potete creare la vostra partita cioè prima di tutto il giocatore quindi potete dargli un nome potete dargli un aspetto quindi uomo o donna delle varie razze potete fare i teladi potete fare non so lo splitta potete fare l'argoniano che alla fine sono degli umani e sceglierne il nome e soprattutto il conto iniziale fino a 10 milioni si possono aggiungere delle merci quindi potete dare al vostro personaggio delle merci creare una vostra storia personale aggiungere dei progetti quindi la possibilità di aggiungere guardate quanti sono guardatene anche il valore tutti i progetti che possedete potete in questo caso andare a selezionare il metodo di costruzione universale questo onestamente non so cosa sia e la livrea quindi la livrea ma questo è solo uno dei menu quindi il nome, l'immagine, il conto in banca poi potete scegliervi la nave iniziale con il suo nome e qua le avete tutte volete partire con un XL una nave che mi piace molto è la Tokyo questa è la nave se non sbaglio umana è una capital enorme volete iniziare con questa? iniziate con questa è davvero interessante come cosa potete usare la tuta spaziale e iniziare con la tuta spaziale quindi senza assolutamente niente e qui invece avete le proprietà potete già aggiungere delle stazioni qua ci sono delle stazioni già pre costruite che potete andare a possedere aggiungere anche più di una aggiungere una flotta e creare di conseguenza la vostra flotta iniziale potete beh questo è tutto quello che c'è per quanto riguarda le proprietà l'universo invece potete scegliere un seme di generazione per l'universo che qua onestamente devo ancora capire se effettivamente si crea tutto a caso ma dubito potete aggiungere il settore iniziale e soprattutto tutto quello che voi conoscete quindi qui c'è tutto ci sono tutti i settori che voi conoscete già poi la relazione con le fazioni quindi abbiamo il nostro personaggio di cui non ho modificato il nome con le relazioni quindi in questo caso vedete come cambia e diventa rossa potete scegliervi l'inizio con tutte queste fazioni qua e questo è molto interessante invece perché la storia rimane quella ma potete scegliere lo stato cioè io adesso se togliessi questo mostrerei delle cose lo stato iniziale di ogni singola trama io adesso vi ho aperto solo questo perché è una questione di spoiler se poi andate a vedere le altre ogni di queste ogni una di queste fazioni le chiamo capitoli hanno dei sottocapitoli della storia quindi la storia indipendentemente da come iniziate il gioco che cosa vi date che cosa possedete ci sono quindi potete decidere a che punto iniziare ad affrontarle e poi vabbè abbiamo il pennello della ricerca dove possiamo andare a potenziare la ricerca fino a quella che che vogliamo insomma quindi sono ci sono queste e così via questo è l'inizio della della partita qua sotto vedete un riassunto con il denaro le proprietà personali posso resettarle quindi tornano in teoria a zero tutto lo stato della storia e lo stato della ricerca questo è un inizio davvero molto interessante perché vi permette di iniziare come volete in questo caso andiamo ad apparire il pannello della costruzione degli edifici delle stazioni dove ci metterà a disposizione tutti i frammenti diciamo i frammenti i progetti aspettiamo che finisca l'inizializzazione e questo è l'inizio della pianificazione delle stazioni che non ho idea di come funziona onestamente perché è la prima volta che lo avvio ok quindi praticamente si va si inizia la stanza dell'architetto si inizia la pianificazione della stazione quindi pianifica la costruzione ci vengono dati tutti i moduli possiamo andare a costruire come vogliamo con tutti i progetti sbloccati non so dire la verità quanto serve avere questo spazio ma in realtà come potete vedere qui potete esportare o importare quindi è molto utile se voi volete prendere un pezzo piazzarlo lì e probabilmente anche andare a vederla forse vabbè comunque in sintesi vi fate il progetto lo salvate lo esportate e ve lo reimportate nel gioco finito diciamo nella vostra partita in modo che qua ve lo pianificate con calma con tutti i progetti e poi una volta in gioco andate e cercate di acquistare i progetti che vi servono che non avete ancora quindi questa è un'altra delle novità ragazzi questa è la patch 4.10 penso di avervi detto solo poche e le poche cose le più importanti in realtà i fix sono veramente tantissimi attendo il vostro parere come sempre un commento se vi va su quello che ne pensate come al solito eccola qua la Tokyo dovrebbe essere tipo questa la capital umana che cosa ne pensate di questi video flash e insomma e che cosa ne pensate di questa nuova patch ovviamente ricordatevi una cosa ultima postilla le funzionalità online sono state disattivate che dovrebbero essere quei moduli che voi piazzate nella vostra partita e in cui poi le vostre astronomi partono vanno fanno missioni all'interno di partite di altri giocatori ma che mi sembra di aver letto che a parte questa cosa quando voi fate una partita personalizzata le funzionalità offline sono disattivate da quello che io sappia anzi penso alla creativa del disability infatti sì c'è scritto qua solo la creativa la creativa dovrebbe darci un accesso molto semplice senza troppe cose perché poi abbiamo abbiamo praticamente già già tutto ragazzi questo è tutto come sempre come vi ho detto prima fatemi sapere come sempre ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao